ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco skin rebuild x6 lb e medical farm a cosa serve skin rebuild x6 lb e medical farm a un parafarmaco appartenente alla categoria degli antiruganti age è commercializzato in italia dall'azienda blanch group srl informazioni commerciali titolare blanch group srl concessionario blanch group srl categoria di appartenenza antiruganti age confezioni skin rebuild x6 lb e medical farm a crema viso anti adipaging rimpolpante 6 x 15 ml cad indicazioni crema viso ad effetto rimpolpante che lavora in modo mirato sulla di pagina della zona via x il on del viso modalità ad uso inserire la siringa cosmetica nel manipolo specifico del dispositivo ed erogare la quantità di prodotto necessario per il trattamento con una pressione ripetuta sullo stantuffo attivare il manipolo e seguire il protocollo di lavoro descrizione e caratteristiche emulsione viso formulata con innovativi funzionali dalle proprietà anti age come il complesso co touring via y l'on ammino acidi arganina e carnitina che aiutano a rendere la pelle levigata tonica e compatta arricchita col mix di oli vegetali come l'olio di vinaccioli e di jojoba arricchita con formule ozonizzate per un contrasto dell'invecchiamento cutaneo intensivo e un effetto protettivo avvertenze prodotto cosmetico per uso esterno evitare il contatto con le mucose tenere fuori dalla portata dei bambini componenti e ingredienti principi attivi principali complesso contouring via y l'on anti age estratto acquoso ottenuto dall'estrazione di acqua subcritica di bacche di guii organiche licium barbarum e stabilizzato in glicerina vegetale biologica svolge azione globale per ammordidire la zona v da mento alle tempie e y dal sottomento al dia copyright con l'età copyright del viso contrasta la di paging contribuendo alla protezione dell'ipoderma infiammato e stimolando la neosintesi lipidica limita il rilassamento del viso mantenendo le funzioni barriera della pelle e migliorando la coesione delle varie strutture che la compongono protegge la barriera epidermica costituisce quindi una nuova strategia per sfidare la di paging grazie ad un'intensa azione biologica agisce aiutando a rimodellare ad armonizzare i contorni ed i volumi del viso in particolare nelle zone y e v amminoacidi arginina e carnitinanti agea e rosnellente rassodante l'arginina a un ammino acido basico che si presenta sotto forma di polvere bianca solubile in fase acquosa e uno dei naturali costituenti delle nmf natural moisture in factor cutaneo a proprietà idratanti ed anti age a e molto usata in formulazioni per pelli secche e che hanno perso tono ed elasticità la carnitina un derivato amminoacidico che si presenta sotto forma di polvere bianca solubile in acqua e presente in quasi tutte le cellule del corpo umano gioca un ruolo fondamentale nella produzione di energia infatti la sua funzione principale a quella di trasportare gli acidi grassi dal citoplasma ai mitocondri dove vengono ossidati per produrre energia l'applicazione topica di carnitina potrebbe quindi produrre un aumento del metabolismo dei substrati lipidici sottocutanei per questa ragione la carnitina viene utilizzata come attivo per le formulazioni ad azione snellente e rassodante utili per donare tonicità ed elasticità alla pelle glicogeno vegetale mantenimento dell'omeostasi il fitoglicogeno ha un ingrediente cosmetico totalmente naturale e sicuro chimicamente identico al glicogeno presente nel corpo umano fonte e riserva dell'energia endogena il suo ruolo nell'organismo a ben noto svolge una funzione essenziale nel garantire l'omeostasi e la salute cellulare recenti studi clinici e studi complementari in vitro dimostrano che il fitoglicogeno isolato dal mais dolce può migliorare la salute cellulare e l'aspetto generale della pelle olio di yojoba ozonizzato idratante protettivo euro antiossidante purificante questo olio grazie alla sua composizione ricca di esteri cerosi a lunga catena il pia simile al sebo umano fra gli oli vegetali risulta pertanto un ottimo idratante protettivo cutaneo grazie alla presenza della parte ozonizzata svolge azione antimicrobica purificante antiossidante anti age olio di vinaccioli emolliente elasticizzante l'olio di vinaccioli a un olio di origine vegetale estratto dal semi presente nell'acino dell'uva le sue proprietà emollienti lo rendono adatto alla cura del viso e per ridratare il corpo rende la pelle più elastica riesce ad ammorbidirla e addirittura a levigarla la sua principale caratteristica ha legato all'elevato contenuto di acido linoleico un acido grasso essenziale della serie w3 e inoltre ricco di polifenoli noti per l'azione antiossidante che proteggono la pelle dall'invecchiamento cutaneo analisi ingredienti inci acqua triticum vulgare germ oil vitis vinifera seed oil metil glucoses squisterate glicerine propanediol cetearil alcohol ozoni zedio ioba oil argani espinosa kernel oil butyrospermon parchi butter lecetine arginine carnitine glicogen benzil alcohol xanthan gum tetrasodium glutamate di acetate etilexil glicerine licium barbarum fruit extract zingiber officinale rot extract parfum tocoferol ascorbil palmitate sodium benzoate potassium sorbate citric acidi ingrediente proveniente da agricoltura biologica fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato